Ciao! Che emozione! Che emozione essere qui oggi! È stata lunga! E' stata... Madonna siete tantissimi! Mi fate emozionare! Abbiamo fatto un percorso lunghissimo. Abbiamo fatto una scalata. È tanti anni che lavoravamo e due anni fa abbiamo conquistato Roma. Il Movimento 5 Stelle ha conquistato Roma. Ed è stato il primo passo. E lo avevamo detto dall'inizio che saremmo arrivati al governo di questo Paese. E oggi è realtà. Oggi abbiamo. È nato il governo del cambiamento. Io non ho parole. È una cosa che abbiamo sognato tutti tanto. E oggi è qui. La stiamo toccando. Abbiamo visto i ragazzi. E inizierà un nuovo percorso. Allora io lo voglio dire subito. Questi due anni, lo sapete, sono stati lunghi e difficili. Difficilissimi perché... Sono stati difficilissimi perché, lo sapete, hanno descritto Roma... Come l'inferno in terra. I romani sono stati screditati. Hanno gettato fango ogni giorno. Ci hanno descritto come dei criminali. Accidenti. Accidenti. E l'hanno fatto tutto per un bieco interesse politico. Per evitare che noi potessimo arrivare a governare questo Paese. Invece ci siamo! Nonostante tutto ci siamo! Io lo voglio dire. Hanno fatto di tutto. Ma come si dice, non si può vincere contro chi non si arrende mai. E io non mi sono mai arresa. Noi non ci siamo mai arresi. Perché ci crediamo. Ci crediamo davvero che Roma possa essere una città eccezionale ma normale. Una città nella quale le cose si fanno per bene. Una città nella quale non ci sia corruzione. I soldi vengono spesi per progetti giusti. Si fanno finalmente cose per i cittadini. Una città più vivibile. Beh, io ci credo. Ogni giorno, nonostante tutto, la mattina mi sveglio e ricomincio. E vado avanti. E questo si sta vedendo. Perché Roma ha iniziato a invertire la rotta. Roma ha iniziato a risparmiare, ha iniziato a tagliare spese. E adesso iniziamo ad avere finalmente dei soldi da investire con appalti. Con appalti regolari. Io una volta in televisione raccontai una cosa. E dissi che noi dovevamo costruire una macchina. Perché la macchina era tutta rotta. Il volante stava da una parte, i pedali dall'altro. Quindi avremmo ricostruito la macchina e l'avremmo fatta partire. Beh, in questi due anni io mi sono accorta che talvolta neanche c'era il volante. Neanche c'erano i pedali. L'abbiamo dovuti ricostruire. È stata una cosa. E lo è ancora. Ma andiamo avanti. E adesso non possono dire più che Roma è ladrona. Roma non è più ladrona. Perché addirittura sta pagando i debiti di quelli bravi, di quelli capaci che ci hanno preceduto. Quelli capaci che oggi ci danno i consigli e addirittura ci dicono come dovremmo fare. Ma come? Ce l'avete sfasciata sta città? Ce l'avete lasciata sfondata? Lasciatemelo dire. E oggi ci date i consigli. Ma ci potevate pensare prima. E talmente questo è vero che siamo riusciti a fare inserire nel contratto di governo un intero paragrafo per Roma capitale. Chiariamo. Chiariamo. Io non voglio chiedere soldi. Io voglio chiedere competenze. Voglio chiedere poteri. Voglio poter andare a parlare direttamente con lo Stato. Se io ho bisogno di soldi per i trasporti, come tutte le città, io devo poter andare dallo Stato e avere i soldi che Roma si merita. Non devo passare per il tramite della Regione che ce li dà se, quando e quanti vuole. E così per tutto. Io devo poter competere con le altre capitali europee e mondiali avendo gli stessi poteri. E oggi non è così. Allora se Roma capitale deve essere davvero capitale, deve trainare l'Italia, beh deve poterlo fare e deve poterlo fare alla pari con le altre. E oggi non è così. E allora io vi dico una cosa. Da domani, in realtà sono già iniziati, ma da domani inizieranno ad accusare questi ragazzi di non essere riusciti ancora a sistemare l'Italia. E beh, in 24 ore che governate avete la maggioranza? E com'è che ancora non è tutto a posto? Inizieranno. Allora, noi dobbiamo prendere questa come una maratona. Dobbiamo dosare le forze, essere implacabili, ma dobbiamo dosare le forze. Perché abbiamo cinque anni, pezzetto dopo pezzetto, va ricostruito tutto. E dobbiamo stargli vicino anche quando sarà dura, soprattutto quando sarà dura. Quando inizieranno ad aprire i vasi e troveranno quello che neanche pensavano. Dovete stargli vicino. Non lasciateli mai. Perché veramente avranno bisogno, avranno bisogno di tutti noi e di tutti voi. Questa è una promessa che ci dobbiamo fare. Voglio dirvi l'ultima cosa. Io credo che se noi oggi tutti siamo qui, le persone lì sopra ci stanno guardando. Noi dobbiamo dire innanzitutto un grazie. Un grazie a Beppe e Gianroberto che hanno creduto in un sogno. Era un sogno di due persone che provavano a immaginare un futuro migliore e sono stati derisi. E noi ci siamo avvicinati a loro. Abbiamo creduto che potesse diventare realtà e insieme a loro abbiamo iniziato a costruirlo, questo sogno. E questo sogno oggi è qui. È diventato realtà grazie al lavoro che tutti noi, pezzetto dopo pezzetto, abbiamo fatto. Allora ringraziamo loro e credo che Gianroberto sarebbe ed è sicuramente orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Quindi grazie. Grazie per aver creduto in un popolo. E poi ancora grazie. Grazie a Luigi che non si è mai arreso, nonostante tutto. E grazie a tutti i parlamentari. Vedo Carla, vedo Paola, Alessandro che è partito ma sta sempre con noi. Siccome so che ci stai vedendo, dicono dibba dibba. E ringrazio ancora Alfonso e Riccardo che sono entrati in squadra di governo. Giulia, tutti, tutti quelli che sono entrati, Barbara, io li ringrazio per non aver mai mollato ma c'è ancora un altro ringraziamento che devo fare e non è scontato. Ed è un ringraziamento a tutti voi perché avete continuato a sostenerci sempre. E questo ve lo voglio dire col cuore. Noi prima di essere sindaci, parlamentari, consiglieri, siamo persone umane. Siamo cittadini e siamo persone umane. E talvolta, umanamente, subire tutto quello che abbiamo subito fa male. Fa veramente male. Però andiamo avanti, abbiamo la forza di guardarci allo specchio e sappiamo che siamo lì a combattere anche per voi. E quindi continuiamo ad andare avanti, grazie a voi. Non è scontato. Perché talvolta ci si dimentica che siamo persone. E allora, visto che siamo persone, vi dico un'altra cosa. E poi vi lascio. Oggi è la festa della Repubblica ed ha un significato ancora più bello perché è nata la Repubblica dei cittadini. Ciao, grazie! Grazie, tesoro.